La firma del protocollo d'intesa tra la Regione, il Comune e i reti ferroviari italiane per la progressiva eliminazione degli attraversamenti cittadini dei treni è stato uno dei punti critici su cui la maggioranza di Udine e del sindaco De Toni ha incontrato qualche ostacolo sulla strada della completa soddisfazione di tutte le componenti. Soddisfazione che non c'è stata dal momento che il consigliere Matteo Manzi del Partito Democratico è uscito dalla maggioranza per posizionarsi nel gruppo misto. Manzi, leader della protesta contro i passaggi a livello in città, era anche delegato alle questioni ferroviarie e aveva lamentato di non essere stato interpellato durante le interlocuzioni tra il Comune e la Regione su questo tema. Qualcuno sostiene che il semplice fatto di sospendere la circolazione dei treni non sia garanzia che non vengano riattivate quelle linee? Allora, secondo me è una polemica sterile solo per il fatto che noi abbiamo deciso che insieme ad RFI che conosce molto bene quello che è il traffico presente ma anche quello in prospettiva perché sappiamo che la linea su Tarvisio e quindi che attraversa il nodo di Udine è una linea che avrà sempre più carico di traffico. Quindi giustamente anche per lo svolgimento dei lavori non è possibile andare a dismissione totale della linea nella seconda fase che è una fase abbastanza vicina nel tempo e che verrà finanziata nel prossimo e finanziario da parte dello Stato. Ma dovremmo arrivare alla fase 6 per poter avere un progetto di rigenerazione e proprio la dismissione totale del binario.